Mi piace anche a Pietro Franzoso e Arnaldo Sala la proposta della Regione Salento lanciata dal presidente di Mixer Media Paolo Pagliaro. Due i punti di forza del progetto raccolti da deputato e consigliere regionale del PDL, ossia l'affinità delle radici storico-culturali delle tre province e soprattutto il superamento del baricentrismo regionale. Lei cosa ne pensa della Regione Salento? Ma indubbiamente è un'idea attorno al quale bisogna raccogliere delle riflessioni. Sicuramente c'è una omogeneità territoriale, culturale, che credo vada adeguatamente approfondita, anche se l'Iter, quando anche dovessimo trovare un consenso generalizzato, è lunga trattandosi di una legge costituzionale. C'è un dato che oggi dobbiamo constatare che la politica è eccessivamente baricentrica, per cui una riflessione sicuramente sul territorio di Taranto, Brinzi e Lecce va adeguatamente approfondita. Ancora più netto Arnaldo Sala che ha parlato di un vero e proprio gioco del capoluogo barese. È una bella novità, sicuramente possiamo affermare che vi sono differenze culturali tra Foggia e Lecce, il bassissimo Salento, anche nell'area Ionica, rispetto al Foggiano, rispetto anche al nord barese. Francamente credo che meriti una costruzione più attenta, più puntuale. L'idea mi piace, mi solletica, perché forse riusciremmo a togliere il gioco della baricentricità e anche dell'asse Lecce-Bari, che da più di qualche anno mortifica, usiamo un termine più o meno leggero, le altre comunità tipo la nostra.